Ciao creatura Io sono Monica di Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di E-S-M-R Io creatura Io sono un agate e benvenuta o benvenuta Welcome back To the Kingdom of Good Day A-S-M-R Oggi ti propongo questo gioco Indovina il suono Today I propose this game to you cast a sound Windy Cutie Lucky Relaxity So Close your eyes Relax Partiamo con il primo Let's start with the first Ring Echo lungs I Beyond Problem sitt 動 UA Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Suono numero due. Sound number two. 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 sound number two.